Un dono di Dio la presenza di Monsignor Gimberto e degli altri concatelli di sacerdote. Per ora, per i due due cani, se facevo, alcuni sacerdoti del Canesi che vivono il proprio sacerdotio fuori si ritrovano nella comunità nostra di origine, per cui anche questa presenza diventa un arricchimento per noi. Grazie a Monsignor Gimberto per la tua presenza in mezzo a noi e soprattutto grazie a quello che ci ha detto oggi come inizio alla biblioteca comunale. Certamente è un dono prezioso per quello che ci ha detto, dobbiamo fare i conti naturalmente con le nostre realtà. Non sempre tutto quello che si dice si può pienamente realizzare, però diventa uno stimolo, una provocazione per poter migliorare in qualcosa che magari viviamo in maniera a volte distratta, superficiale. Per cui un grande stimolo e una grande provocazione per le mani, per tutti coloro che hanno partecipato e assolutato. Grazie anche al corpo che è stato ben composto da componenti di varie comunità nei paesi qui vicino a noi. E certamente anche questo è un momento bello in cui vogliamo ancora una volta sottolineare l'importanza di fare chiesa, di fare comunione. Non è importante tanto dove veniamo, dove siamo, ma qui siamo tutti al posto a posto, nessuno di noi non possedissi straniero, ma siamo tutti a casa, anche se provenienti da varie comunità. Questo è il versetto di comunione. La parola divina è la parola divina. I verbi latini usati sono veramente efficacissimi. A udire, attico è percepio. Non solo ascolto, ma in un bel percepio, lo definisco anche visione. C'è una musica che diventa visibilità del mistero che si sta celebrando e quindi immersione nel mistero celebrato da parte di chi vuole celebrare. molto grande. Non solo ascolto, ma in un bel percepio, lo definisco anche il mistero che si sta celebrando. E' un momento molto raffinato. Signore, tu sei la mia vita che mi conduce al padre, a mia vita di voi. Signore, tu sei la mia vita che mi conduce al padre, a mia vita di voi. Signore, tu sei la mia vita che mi conduce al padre, a mia vita di voi. Signore, tu sei la mia vita di voi. Signore, Signore, Signore. Santo, 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 il Signore più bello di questo, I cieli e la terra sono pieni della tua coppia. Hosanna, Hosanna, nell'alto dei cieli. Hosanna, 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 Hosanna. A stessa prima, cieli e la terra sono pieni delle donne. Arnodesto dei cieli e licee sono pieni della tua coppia. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.